Salve e benvenuto alla puntata di oggi in cui parleremo dell'olio di palma. Un altro argomento attuale che veramente suscita anche qui confusione perché chi dice che fa bene, chi dice che fa male, quindi dobbiamo capire un attimino cose come la situazione. Innanzitutto l'origine dell'olio di palma deriva da una pianta che si chiama Elesis vinensis che è originaria della Malesia e dell'Indonesia. E' praticamente deriva in modo particolare dalla spremitura del frutto di questa pianta. E' la raffinazione, un olio appena spremuto e un olio anche di colore rossastro per il contenuto di beta carotene. Poi questa pianta addirittura fa un altro olio che si chiama olio di palmisto che invece deriva dai semi. Quindi fa due tipi di olio questa pianta. Andiamo ad analizzare un po' il contenuto di grassi che contiene questo olio di palma. Allora, ha il 49% di grassi saturi, tra cui l'olio di palma ha questo acido palmitico, questo acido grasso che è stato incriminato di essere pericoloso. E' un acido grasso saturo ed è questo il motivo per cui si è creato tutto questo dibattito. Però voglio sottolineare un lavoro, una meta analisi uscita su una prestigiosa rivista che è il British Journal che ci dice che i grassi saturi non sono direttamente correlati, non c'è nessuna correlazione con patologie come cancro, diabete e altre patologie di questo tipo. Quindi non sono i grassi saturi come tali, ma sono i grassi idrogenati trans. Cioè lì dobbiamo avere, ci sono molte evidenze. E in questo caso l'olio di palma quando è appena spremuto non ha questi acidi grassi trans, ma si formano però purtroppo nei processi di lavorazione. Quindi nei prodotti da forno ci sono purtroppo questi grassi trans e quindi ecco che i prodotti che sono sul mercato che hanno quest'olio di palma non è tanto l'olio di palma in sé, ma sono i grassi trans idrogenati. Anche perché poi se andiamo a guardare l'olio di palma abbiamo se il 49% è praticamente formato da grassi saturi, il 51% è formato da acidi grassi polinsaturi, quindi mono e polinsaturi, quindi che sono acidi grassi buoni. Quindi diciamo l'olio, sfatiamo un altro mito, cioè che l'olio di palma non è pericoloso come spremitura, quindi possiamo come prima spremitura, ma è pericoloso nelle lavorazioni. Quindi è questo che dobbiamo cercare di evitare. Purtroppo le varie merendine che sono sugli scaffali dei vari supermercati purtroppo hanno questo tipo di composto. Poi ovviamente c'è un'altra problematica che è legata al disboscamento per esempio di quello che è successo nell'Indonesia. Gran parte della flora e della fauna autoctona praticamente è stata rovinata perché sono state ampliate queste coltivazioni, di questa pianta perché è l'olio ritenuto molto stabile e molto economico. Quindi anche qua stiamo cercando di rovinare un pochino anche la flora e la fauna di alcune zone. E con questo praticamente abbiamo chiarito un pochino la situazione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Grazie a tutti.